Anche oggi è stata una giornata all'insegna della paura nelle zone terremotate. Nel primo pomeriggio alle 13.44 si è infatti registrata una scossa del terzo grado della scala Richter con epicentro tra Fossa e Poggio Picenze. Per fortuna il tempo oggi è stato clemente con il sole ed una temperatura, a differenza dei giorni scorsi, abbastanza mite. Intanto prosegue l'attività nei 106 campi di accoglienza con 4.500 tende. Il terremoto ha allontanato dalle Eurocase 50.000 persone in un raggio di 1.500 km2. A tracciare un bilancio della tragedia d'Abruzzo è il capo dipartimento della protezione civile Guido Bertolaso. E oggi sono cominciati i rilievi da parte di polizia e carabinieri su uffici pubblici e palazzi danneggiati o crollati a causa del terremoto per raccogliere elementi nell'ambito dell'indagine aperta dalla magistratura dell'Aquila. Squadre della polizia scientifica della squadra mobile sono stati impegnati in via 20 settembre dove sono stati già esaminati la casa dello studente e il palazzo di giustizia. Sono stati superati 10 milioni di euro con la raccolta fondi avviata dalla protezione civile a favore delle popolazioni terremotate dell'Abruzzo. Lo ha reso noto questa mattina la stessa protezione civile. A tal proposito il presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ha dichiarato che ad un primo esame la cifra di 12 miliardi per la ricostruzione mi sembra molto attendibile. Chiodi ha così commentato le dichiarazioni che il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha fatto ieri durante la trasmissione Ballarò. Intanto tra fondo di solidarietà e riallocazione dei fondi strutturali, gli stanziamenti comunitari per la ricostruzione dell'Abruzzo potrebbero raggiungere 500 milioni di euro. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea. Domani tornerà in Abruzzo il presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi. Il premier probabilmente visiterà anche la prima scuola da campo per i bambini della scuola di infanzia e delle scuole elementari, che sarà inaugurata domani mattina a Poggio Vicenze. Infine la situazione sull'apertura delle scuole in Abruzzo, chiuse ovviamente nelle zone terremotate ma anche a Teramo, Montorio, Chieti e Lanciano. Aperte invece a Pescara, Montesivano e Pineto. Per maggiori informazioni è conveniente informarsi presso il comune di propria appartenenza.